Verdoni! Ma che urli? Ma l'è Carlo Verdoni? Eh, so io, dimmi. Me lo farei pomatografo. Come no? Dai. Tu però, ma lo faresti il tuo? Ma il mio? Eh. Con una firma sul tuo 7,30, tu puoi donare il 5 per mille all'Istituto Regina Elena e all'Istituto San Gallicano per sostenere la loro ricerca sul cancro e le malattie della pelle. E non ti costa nulla. Non ve costa nulla. Dai. Grazie.